Oggi daremo una risposta al quesito culinario che sta angosciando tutti i salotti del mondo e cioè il pollo è più buono al forno o con la frigitrice d'aria? Per rispondere al quesito abbiamo a disposizione più di un chilo di pollo fra cosce e fusi che andremo subito ad insaporire con una marinatura semplice ma gustosa composta da olio extravergine di oliva, rosmarino tritato e sale fino E a sorpresa completiamo la nostra marinatura con un cucchiaino di zucchero di canna giusto per attivare la reazione di Maillard Che cos'è questa reazione? Maillard credo che fosse un chimico ma la cosa importante è che ci ha insegnato che mettendo alcuni zuccheri insieme alle pietanze si ottiene una migliore caramellizzazione della carne quindi grazie Maillard Spennelliamo la nostra carne sia fronte che retro E per quanto riguarda i fusi di pollo possiamo tirare la pelle marinare sotto pelle richiudere e marinare anche sopra Ma pelle sì o pelle no? Sia a me che a mia figlia la pelle ci piace e quindi ce la teniamo ma se volete la potete anche mettere da parte ma quello che non si può mettere da parte quando si parla di pollo arrosto e sono le patate con conditura semplice olio, aglio schiacciato e rosmarino Questa è la parte di pollo che è destinata al forno sotto le patate sopra una griglietta sopraelevata e poi il pollo che così dicono si cuoce molto meglio e allo stesso tempo rilascia i suoi grassi sulle patate sempre grande leggerezza Eccolo infornato a 180 gradi per circa 45 minuti poi vediamo nel durante con il forno statico e la ventola accesa Ma ti sei dimenticato di noi? Assolutamente no voi andate nella frigitrice ad aria a 180 gradi per 20-25 minuti Approfitto della fase di cottura per ringraziare davvero un mio caro amico Cristiano che ha un canale che si chiama Diffusione Tech che mi ha aiutato per realizzare il logo il video introduttivo il video finale tutte cose che io sono assolutamente negato quindi grazie, grazie Cristiano Ultimi 5 minuti saliamo di livello con il grill a 200 gradi Qui c'è il pollo al forno e qui quello in frigitrice ad aria che ad occhio mi sembra un pochino più rosolato la temperatura interna è identica per entrambi e vai con l'assaggio confesso che un pochino sono emozionato vediamo inizierei con la certezza il pollo al forno mmm buono mmm croccantino sugosino condito bene buono subito a seguire si prova l'outsider il pollo in frigitrice ad aria mmm più croccante anche le patate e sono buonissime e quindi chi è che ha vinto sono stati bravi entrambi buoni entrambi buoni buoni però anche con un po' di sorpresa frigitrice ad aria è più croccante e quindi oggi il vincitore è il pollo in frigitrice ad aria e dopo questa sfida entusiasmante altro non mi rimane che ringraziarvi per l'attenzione e ricordarvi che se volete vi potete iscrivere al canale ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti